benvenuti in un nuovo video oggi cercheremo di capire come pulire al meglio i vetri dell'auto quando si appannano quante volte d'inverno ci capita che il parabrezza dell'auto si appanna tantissime accade soprattutto nelle giornate viose se ci fate caso oggi cercheremo di capire perché si appanna e come pulire il vetro al meglio e nel minor tempo possibile cerchiamo di capire perché succede soprattutto nelle giovarnate piovose quando piove l'umidità aumenta ma che cos'è l'umidità l'umidità è la quantità di vapore acqueo che si trova all'interno dell'aria il vapore acqueo è acqua allo stato gassoso quando piove e stiamo in macchina chiudiamo tutti i finestrini per evitare che ci piova all'interno dell'auto l'aria che abbiamo contenuto all'interno della macchina quando abbiamo chiuso i finestrini aveva una quantità di acqua alta e inoltre mentre noi respiriamo parliamo facciamo uscire altro vapore acqueo cosa succede che il vapore acqueo che si trova all'interno dell'auto incontra il parabrezza il parabrezza che è molto freddo siamo in inverno ci aspettiamo che sia freddo è più freddo sicuramente all'interno dell'auto dove il vapore acqueo l'acqua è allo stato gassoso quando il vapore acqueo tocca il parabrezza più freddo si condensa cioè diventa acqua passa dallo stato gassoso allo stato liquido questo appanna il vetro e noi che cosa facciamo solitamente cerchiamo di riscaldare il vetro quello che in realtà è più conveniente fare è puntare il condizionatore sul parabrezza non è importante la temperatura a cui accenniamo il condizionatore è più importante che stiamo deumidificando l'aria che si trova a contatto con il parabrezza che significa cioè che priviamo l'aria dell'umidità e la spelliamo al di fuori della macchina è importante non avere il ricircolo dell'aria come opzione così che viene espulsa tutta l'umidità quindi il vapore acqueo se facciamo questo piccola se facciamo questo il parabrezza si pulisce in pochissimo discorso diverso è per il lunotto cioè il vetro che si trova alle nostre spalle sul lunotto non potete far arrivare l'aria del condizionatore e quindi di più di umidificarlo i costruttori di macchine questo lo sanno e hanno inserito delle resistenze che permettono al lunotto di riscaldarsi molto più velocemente del parabrezza e permettere quindi una pulizia non tramite la deumidificazione ma tramite il riscaldamento che è molto più efficace sul lunotto che sul parabrezza questo è tutto per oggi ci vediamo al prossimo video